Ciao a tutti, tempi duri perché ci propina vecchi cibi avariati, perché è in arrivo un sensore che sarà poi collegato allo smartphone con un'app apposita che permetterà di identificare i cibi avariati e anche la composizione degli alimenti. I cibi avariati li identificherà utilizzando una tecnologia di spettografia vicina all'infrarosso, basata su tecnologia LED, una tecnologia che si chiama NIRED, che consentirà proprio attraverso un'analisi, quindi questa luce emessa da questo sensore, andrà a colpire il cibo, che sia un pesce, magari va in pescheria, hanno spruzzato delle cose sul pesce per farlo sembrare fresco, invece il pesce è già avariato. Sulla base del ritorno della spettografia ti darà una risposta se questo alimento è avariato, un alimento vecchio oppure fresco. Interessante perché permetterà ai cittadini di poter da soli fare degli acquisti più mirati e se si diffonderà poi questa tecnologia toglierà anche la possibilità a chi comunque smercia cibo vecchio o per fresco di poter continuare. Bene, per questo video è tutto, iscriviti al canale, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!